signori bentornati in un nuovissimo episodio di Bioshock in compagnia dello zio Udini benvenuto benvenuti a tutti Bioshock il remastered è la remastered allora ci eravamo fermati qua dove non si riusciva a andare ma nel frattempo mi sono informato e ho chiesto perché non mi ricordavo come funzionasse e bisogna tornare indietro bisogna tornare dove c'era quel punto non lo piglio neanche da qui non si ah perché c'è un vetro qua ok quel punto dove avremmo detto ci torniamo se mai dopo esatto dove sparavano come se non ci fosse un domani esatto quindi adesso torniamo indietro allora qui no qui c'era il potenziamento delle armi allora aspetta ma allora era tipo questa zona qua forse no il ticato una scala però non è lontanissimo secondo me secondo me a destra prosegui su ecco fai foto fai foto a questo qui allora che ti venga addosso ok sì perché un'altra a fuori di fuori così ma io non l'avevo capito nuovo tonico dinamismo in questi tempi pericolosi non fa mai male essere un po più veloci ricorda non devi superare un ricombinante impazzito ma il tuo vicino ora ti sta per massacrare però sappi allora avanti con un abbraccio alzato e li sta per colpire io laccerei questi due per il momento però sappi che facendo così acquisci nuove cose eccolo adesso dovete rimettere un'arma e farlo fuori che può essere cosa buona e giusta sì però senza usare troppa bene vado avanti quindi dico torno indietro oh sì non ti preoccupare tutti questi voti vai vai tranquillo non faccio niente da norma big daddy salutamelo no invece se incontri un big daddy anche quello devi ecco dov'era era qua da qualche parte no no di lì no sicuro no di lì no sicuro secondo me di qua è foto 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 tutti e tre foto tutti percorso giuda sì ma poi muoio ma no a livello ancora livello ha ancora bene magari me lo finisce no si troppa troppa nobis va bene va bene va bene però l'ho finito è nuovo livello di ricerca raggiunto bonus di ricerca allora facciamo foto a tutti non finito se l'hai addosso ormai ah se aspetti ne fai un altrimenti ti sta per uccidere volte fai anche a più ci aiuto bellissima aiuto basta no sbagliato li uccido con le fotografie a furia di flash si stancheranno si stancheranno tonico dinamismo 2 vabbè sono fortissimo allora scusi no posso ok perfetto complimenti se l'abbiamo fatto sì era lì giù hai ragione perché vedo la volta questa non c'è niente no come no il medico fuori non è guardato fuga sicura aspetta nuovo tonico ancora ma quanta una una frazione rivale una frazione sì una frazione di di milano no ha impiazzato ha impazzato va bene ha piazzato telecamere di sicurezza e torrette proprio dove devi andare tu fuga sicura modifica la traccia termica dello strato epidermico confondendo le telecamere e le torrette e ritardando nella reazione tanto tu ci distruggi tu devi andare a comprare gli spazi poi lascia perdere non metterla il dottore fuori non è guardato nel suo corpo neanche questo canale c'è niente senta lei allora qui ho allora no rientra rientra ecco lì scendi lì dove c'è il meccanismo lì sotto devi andare allora qui sono corrette e esseri sì sì devi andare lì allora è già cominciato è il problema che io non credo di quella lì rossa è la rosa che tu devi prendere allora perché guarda aspetta un poco devo capire vabbè al limite muoio è aia aiuto ok ti sei nascosto questa cosa vuole vista aia vista mi arriva la cosa ma da dove cazzo mi spara da per tutto devi valutare se prendere un rigenerante oppure no aiaiaiai è però adesso come faccio io parare che mi sparano da due parti quindi devo capire da dove mi spara uno eventualmente rinasci e ritorno nasconderti sotto una scala non si darà ma non è che non riesco proprio a vedere da dove mi spara una sinistra aia ma perché non riesco allora fermi forse è sto cosa che mi dà fastidio allora allora uno è da qua però non riesco a vederlo dov'è allora è proprio qua allora uno è andato un aiuto allora questo lo abbiamo fatto e adesso sto per morire sto per morire no no aiutare se ci voleva ricarica del pulsino perfetto adesso con calma guardati bene in perché c'è tanta roba bella roba qua c'è c'è anche qualche kit medico ti saluto il big daddy allora hai saltato a sinistra c'è un'altra roba è l'ho visto no ma ho saltato un botto di roba perché e devi anche andare sotto abbassati allora raccogli la rosa un obiettivo adesso arriva gente però non so da dove aiaia aia aia ma da dove a oa rega dalla scala che dove ti sparino da sopra quindi di stare attento allora scusate fermi tutti ma allora no devo capire dalla scala mi muovi troppo velocemente sono sono un veloci raptor c'è uno che ride che ti bravo anche qui perfetto cerca guardati intorno lì c'è una banca genetica oh shit si è praticamente morto rigenerati perché sei io shit mi è piaciuta molto oh shit no banca genetica no non me ne frega un cazzo me la banca genetica allora lì sopra c'è qualcuno come minimo qui c'è una cassa anti uomo bene forse ho più roba qua che no non è vero mettiamo questi devo questo cos'è stazione robot no niente non serve a un cazzo c'era la stazione che potevo fermare le vabbè bello scoprire le cose dopo la sotto secondo me a sinistra c'è qualcosa sì 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 avevo visto qui è già preso avevo visto ma non ma non avevo controllato ecco bene dati all'alcol sono un ubriacone allora ti si è ripreso ok allora aspettate che devo mettere un po la no aspetta scusami è il fuoco forse no devo devo ecco non riuscivo a ricaricarmi ma la gente è il problema che non ho capito dove cazzo devo andare niente risali dalla scala e se c'è qualcuno che mai ho visto tutto qua sì sì no 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 adesso salendo vedi un pezzettino che mi manca perché guarda la mappa da genetino che stava bruciando vedi lì c'è un pezzettino di sotto che ti manca ma non è sopra però non è sotto sopra mi sarebbe avessi visto un attimo facciamo aspetta eh spera volevo fare altro io volevo fare altro è qui a sinistra infatti che ti mancava ecco a ecco vedi con questo stronzoide qua devi distruggere occhio a non prenderti la scossa ok lì andato aspetta che controllo bene aspetta eh qua c'è della ah qua c'è della roba il medico che fa sempre comodo questo che non so cosa sia patatine kit medice oh ma qui quanta roba c'è sta ah perché questo dato le fiamme aspetta 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 ma c'è un altro pezzo in fondo sì sicuro qui a sinistra devi andarci qui aspetta un po qui dove sei sceso forse non mi sbaglio io sì sì è vero la vera scusa perché tu sei saltato giù ah già perché io sono saltato giù qui ti ha visto qui ti ha visto tutto un po indietro dove c'è un amico fritz aspetta è una foto se vuole gli facciamo una foto ma ma sì ma ti pare aspetta intanto metto allora non così dire una foto no devo ricaricarlo potevo ricaricarlo c'era una porta da elettrificare per entrare a guardare sì allora dove l'amico foto foto vediamo abc b è bella da vicino una bella b o bene a o ciccio bello hanno niente non ho sbagliato arma allora sto per morire è stato bello conoscervi no dove cazzo ma che è a ciccio e facciamo che ci rivediamo dopo è ok tanto per uscire di lì lo stesso tanto ci sarà gente anche qua per cui ora un po di roba guarda un po di l'anti uomo però mi ha rotto un po le palle le anti uomo volevo quelle normali così perché occhio io lo darei col mitra perché tu e le pistola ce l'hai pochissimo potenziata e ci metti troppo uccidermi eccoci sì sì era cattivello è però io devo ma dov'è che si comprano i proiettili che io ho bisogno di altri proiettili serve un pagliaccio aspetta un po fumato le sigarette che fa bene a live adesso quanto pare a di qua giusto si puoi andare credo oltre quel punto dovrebbe essersi aperto a questo punto prova a vedere dove ti dà l'obiettivo da raggiungere perché adesso ti ha dato un nuovo obiettivo sì sì non era lì perché tu eri in quella era qui dove sono andato adesso io l'obiettivo sai sì ma dov'è che eravamo andati poi noi comunque adesso dove dobbiamo tornare no non me lo ricordo allora io mi ricordo che c'è uno lì da uccidere e lì c'è un pagliaccio se volevi darmi hanno non è questo che cos'è inventare le armi nuove esce dalla porta da questo da questa qua ora ma qua ci sarà un pagliaccio dove sono i pagliacci aspetta che mi riindica qua no qua non c'è devo andare dov'è che dovevo andare vivaio qua qua esatto andiamo in fondo al vivaio allora di qua a sinistra e fare una foto a big daddy fare una foto a big daddy fare una foto a big daddy tante foto vediamo come viene è vero non mi sa che non mi ricordavo anche se lì più vicino più vicino rosy ricerca la ricerca che bello questo primo piano complimenti come farsi ammazzare dal big daddy sempre l'accimida vabbè meglio di niente troppo basso esagerato no basta probabilmente si è stufato vabbè ha detto io vediamo se si è sbloccato se no andiamo alla missione era di quale ci si era questo così si è aperto in fondo bene se no c'è il pagliaccio che è cosa buona e giusta allora io lo girerei per diminuire un pochino ma c'è 330 e ma costa e costa 60 io devo prenderne un bel po ci si prova allora questo già è buono allora questo facciamo così guarda quanto è semplice questo adesso che l'ho detto perfetto uno verticale mai mai la gioia aiuto a ecco infatti ma che cazzo sto prendendo va bene va bene o questo può andare ecco bravo mi serve un altro come quello lì eccolo aspetta aspetta non ce l'hai aspetta no questo qua guarda eccolo ah no ok va bene ha girato quindi acquisto oggetti vedico aspetta kit medico quanti ne ho io 4 va bene però non prendere mai fino in fondo perché qualcuno lo trovi e rischi di non poterlo prendere non ci sono i proiettili che mi servono a me vabbè prendiamo anche i medici ok ero venuto qui peraltro non si è aperto quindi vuol dire che non è ancora giunto il momento vai alla all'obiettivo che ti diceva lui andiamo all'obiettivo anche perché scusa è riguardando che di qua ok tornare all'inizio che era una parte bloccata dove non è riuscito a entrare e me lo ricordo eh ma il big daddy mi ha rotto tre quarti eh i daddy non rompono mai ricordo no dove devo dal lato porti qua la porta che è a sinistra e ora non lo so se stai correndo con un matto ma se tu sai dove vai bene un po' per te ma lo ricordo no no aspetta stai andando alla parte sbagliata no dovevo andare dove cazzo dovevo andare ah no dritto dritto aspetta eh dritto? si perché guarda ti faccio te lo dimostro lo dimostro lo dimostri? lo dimostri va bene di qua no si giusto bravo 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 e adesso bravo giù di qua bravo 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 cos'è? c'è un nuovo big daddy foto 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 non so sento la voce Eccolo, foto Biggie, ti va? Biggie, wow Mamma mia, primo piano Ma come rende Un'altra foto, per la causa bene Wow Sì, abbiamo preso il progresso Occhio ai dettagli 2 Chiunque ha dei punti deboli Nascosti, ma con occhio ai dettagli 2 Non lo saranno a lungo Ah, e qui con cosa? Non puoi, tu devi beccare qualcosa per sbloccare Quei 4 a pagamento piuttosto slot Ma per adesso tieniti questi Ma anche le sorelline puoi fotografare Se le vedi, secondo me Secondo me mi ammazza Se gli fotografo la sorellina mi ammazza Ma che te ne frega Si vive una volta sola in baute Sorellina, ricerca C Wow, 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 wow Ah, tutto Oh, bonus ricerca Salute, Yves Adesso mi uccide il Biggie Ancora, ancora No, basta Non hai autorizzazione Basta, basta Va bene, me ne vado, me ne vado Mi sta per sparare? No, non credo Adesso ti ricordi dove devi andare? Eh, dove c'è quello lì Perfetto, ti guida Aspetta, aspetta, aspetta Perché Vabbè, il mitra Io ho quasi finito Le cose No, ho finito Le proiettili per il mitra E volevo Potenziarli Tu fare una foto Prima di uccidere mai, eh? Eh, me scordo Me scordo Vabbè Prendi un po' di oro Oh, c'era anche del pane Fantastico Il pane lasciato a buffire In una città Abbandonata Un gestino dell'immondizia È il top di gamma Sì, e poi molto salutare Devo dire Molto salutare Vabbè Vabbè Aspetti, aspetti, aspetti Qua Ah, vedi? Munizione Mega scherzi Vedi i proiettili per il mitra Quanto costano? A giro anche questo Perché sennò Qui ho un casino Allora Questo mi serve No, non è vero Sì, no Ma allora Questo Questo? Perfetto L'orizzontale Ce l'hai l'orizzontale Eh, però anche il verticale Faccio così Ah, ma è la strada più complicata No, perché è dritta Sì, sì, sì È dritta Sì, però Oh, un verticale Verticale Eccolo di verticale Curva Ho sbagliato Curva Rettilineo Rettilineo Io parlo Ma non so Capisco che sono Aiuto Dov'è Questo Davanti Mi arriveranno Anche le strettoie Che sono molto carine E simpatiche Che rallentano il flusso Rallentano il flusso Sì Ah Allora Proiettili per il mitra Oh, qui Basta Wow Ok No, facciamo ancora uno Dai Ok, tanto ne troviamo Un botto di soldi Più avanti E il mitra È la mia unica arma Silenzio Va bene Te la mando Ecco Tieni Si è aperto Aiuto Qui c'è tanta roba Da guardare Guarda fuori dalle finestre Che bello Prima cosa Che bello Se arriva gente Magari fargli una foto Può essere carina Questa cosa Eh sì Sono un turista D'altronde io No Allora Quello è un nuovo No Questo cosa Sta Ok Nuovo tonico Hacker Esperto Il tonico Genetico originale Di Hacksmart Hacker esperto Disattiva gli allarmi Aiuta a evitare I sovraccarichi Il tonico fondamentale Della linea Hacksmart Fantastico E non è il slot E però io ho Hacker Tranquillo Qui non succede quasi niente Che cos'era? Sei caduto dalla sedia Tutto lì No Fai 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 salti Fai Guarda Fai salti giganti Non me ne ero mai accorto Io Di sti salti Usa kit medico Vabbè Usiamo il kit medico Tanto me ho Schedario Gira nella stanza Ce ne sono altre stanze dietro Non c'è solo questa Stavo ascoltandola Che non la riesco a sentire La tizia lì Si si sta lamentando De cose solite Vai tranquillo Qui è pieno sicuro No Non è vero Allora c'è tanta roba Comincia a guardare la roba Ma abbiamo Scusate Mappa Abbiamo aperto un botto di roba Certo Adesso guarda su questi tavoli C'è tanta roba da prendere Prendilo quello lì Non lo fa prendere Vabbè non me lo fa prendere Peccato Era un microscopio Termosifone avevo capito io È partito un countdown Io credo che tu ti debba muovere a fare qualcosa Ma non so qualcosa Non lo so neanche io Bisognava ascoltare Non l'ho ascoltato neanche io Niente guarda nella stanza Stanza dietro Sicuramente c'è qualcosa da fare Vai 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 Primo guarda tutta la stanza Quello si attiva eh Occhio No è buono È verde È verde È verde per ora Ma attenzione Potrebbe diventare lo so In quella porta non ti fai Quale? No Quell'altra Qua No è chiusa Quella è chiusa Schedari vari Beh io mi darei una mossa Vai in un'altra stanza Vediamo cosa c'è da fare Il pagliaccio non mi serve Arrivederci Allora Dentro la carretta non c'è niente Carriola Sinistra Guarda sinistra che c'era una Non ho capito che macchinario era Questo qui Già Banca genetica Qui è tutto chiuso Va bene Qui è in caso muoio Quindi morirò Va bene Abbiamo capito Qui si apre anche Aspetti eh Non c'è nient'altro No il countdown Eh vai vai Entra in quella porta Entra in quella porta Cose per terra In giro Va bene Ho previsto tutto Via 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 Non c'è tu tornerai di qua credo Wow Wow Galleria bellissima Ah che bello Via Aiuto Io odio il countdown Salve signorina No non mi fa entrare Si è azzerato il countdown Cazzo Arriviamo a un accordo Le stai dicendo Tu è andato la rosa a lei No L'ha fatta fuori Va bene Prova entrare Ah no aspetta aspetta Guarda il vetro Guarda il vetro 9 9 9 9 4 6 9 4 5 5 7 9 4 5 7 Ricordatelo Scrivilo da qualche parte 9 4 5 7 9 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 14 8 14 14 14 15 15 15 15 16 15 16 17 19 17 17 18 19 19 19 Vai alla console A destra, no a destra Volevo vedere cosa c'era la console Ah ok No, non c'è niente Un bocciolo di rosa bianca vuole lei Mi sembra giusto signorina Hai un obiettivo multiplo? Ah ho due obiettivi, bene Ne ho uno qui dove sto andando io No Dove sei tu? Dove sono io E l'altro? No, questi meccanici non so cosa siano allora Sicuramente devi andare al mercato Allora scusami Uno che è qua cosa devo fare qua? Ah inventa il vettore Vai alla macchina per inventare le mele Qui Vettore Lazarus Il Maldello Ti manca del materiale però per inventarlo Ti richiede quella roba lì Quindi tu dovrai trovare la roba e poi inventare il vettore No E quanto come Come li trovo? Secondo me intanto vai al mercato Perché finalmente si è sbloccato Andando verso il mercato Secondo me Troverai qualcosa E il mercato scusami Ma non è che questo qua che si è aperto adesso? Che devo andarci? Quei cancelli famosi Allora Io ti sarei attento perché secondo me quelli mitra elettrici verdi sono diventate rosse Fotto 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 Salve Vi faccio una fotina Tanto al limite rinasco dove ero prima Per cui Esatto Eh addirittura due o tre insieme Dai mi devi No fermi perché questi sono cattivi Ah un'arma? Come mai ti dedichi a quest'arma qua? Non lo so È nuova È carina Mi piace Mi piace far fuori la gente bruciandola viva È divertente Detto così suona malissimo Però va bene Sì Nel senso Insomma avete capito cosa volevo dire Allora Vieni Io ho detto che si attivavano queste cose Io partorrei al mio vecchio mitra Eh sì Decisamente Allora il ciccio qua l'ho bruciato e quindi Ah aiuto Ma scusami dove È a destra È a destra? No Mi sembrava Eccola lì Prima di tutto c'è la telecamera Occhio eh In alto Sei lì c'è la telecamera? Sì Aspetta Sopra di te Ok Perfetto Oh Datemi qua le pellicole La roba Oh Ho sentito cose che mi hanno fatto venire Mi hanno fatto fare dei sussulti Ora quella porta là in fondo Io credo che si apra adesso Già l'elettrico Oh 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 Ciccio bello Ring ring Quella credo che sia una parte di quello che ti serviva per costruire Mi spiace non avergli sparato Perché poteva servire Però No qui cosa Aspetta No no riprova ad andare sull'inventor Allora hai trovato niente ancora No sì 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 guarda ho trovato dieci Dieci di quelle cose gialle E te ne servono sette Vai Magari andando progredendo di qua Le trovo senza dover fare troppi sforzi Sì io le dico che forse converà a fare Ecco che rosso bravo Prima di marcare questa porta Io saluterei Andrea A questo video Sì direi di sì perché abbiamo fatto davvero tanto oggi Quindi sì Una parte anche importante Quindi signore se vi è piaciuto il video mettete like Se non vi è piaciuto non mettete like Iscrivetevi al canale Accendete la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video Che arriveranno quindi io vi saluto Noi vi salutiamo alla prossima Noi vi è piaciuto non mettete like